La famigerata concorrente Perla, Alfonso racconta la verità attraverso un'intervista diretta. Alfonso Signorini, il noto conduttore del Grande Fratello, è stato il primo ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda. Durante l'intervista fatta dalla bravissima Giulia, Signorini si sarebbe lasciato andare ad alcune confidenze in merito alla sua vita. Alfonso racconta Alfonso, Signorini avrebbe ricordato alcuni momenti importanti della sua infanzia fino ad arrivare a parlare della sua carriera e dell'ultimo Grande Fratello, in cui la vincitrice è stata Perla Vatiero. In merito a quest'ultima Alfonso avrebbe dichiarato la sua più totale convinzione che sarebbe stata lei la vincitrice e non Beatrice Luzzi, come molti auspicavano. Il noto conduttore avrebbe ammesso che Beatrice non sarebbe mai stata favorita contro la schiera di fan della coppia Perletti. Il tradimento di Alfonso Durante la chiacchiera con Giulia, Signorini si sarebbe sbilanciato a illustrare il suo lato più intimo, confessando però di aver tradito il suo attuale compagno, Paolo Galimberti, con il quale ad oggi avrebbe intenzioni serissime e con cui starebbe organizzando il matrimonio. L'amore in questi anni per me è diventato amore vero. Siamo passati in tutte le fasi, dalla passione fisica a quella di vivere insieme, alla quiescenza, all'intimità. Quando subentra l'intimità, la passione te la lasci per strada. Però tu capisci che è ben più importante di tutto il resto. E io, nonostante io e lui siamo una cosa sola, siamo fratello e sorella ormai da anni, non riuscirei mai a fare a meno di Paolo nella mia vita. Io sono molto geloso, ma dell'anima, non sono geloso del corpo. Comunque io, non so lui, non mi interessa neanche saperlo, ho tradito. Ora non più perché è una gran fatica, è un lavoro anche quello e non ho più l'età. Però, quando ho tradito, dalla cintola in giù, mai di cuore e di testa. Lui? L'ha scoperto, ma noi siamo una cosa sola, ripeto. Signorini e Beatrice Luzzi. Per quanto riguarda la concorrente Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini avrebbe dichiarato, ero certo che non vincesse Beatrice anche se non l'ho mai lasciato intendere. Lei non rappresenta il concorrente ideale per il pubblico del grande fratello. Lei è stata la vera anima di questa edizione perché è una donna che ha saputo raccontarsi a 360 gradi offrendo ogni puntata dei punti di discussione e di riflessione, è stata un'anima meravigliosa che ha avuto la generosità di raccontarsi. Lei è un'anima che divide il pubblico, che può piacere ma che può essere anche detestata. Si è raccontata con verità. Successivamente avrebbe espresso il suo pensiero su Perla Vatiero e la sua vittoria. Perla è più tonda come personalità, è più morbida e rappresenta pienamente il target del grande fratello. Tante ragazze e tante donne si sono identificate in lei, dato che è nata come la sfigata che è stata tradita, anche se in realtà è stata prima lei con Igor che Mirko con Greta. Quel mondo li ero sicuro che facesse sfracelli. Me ne ero accorto anche dallo studio dato che in ogni puntata c'erano un sacco di perline. Grazie. Grazie.